Siamo la quinta domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, dove il Vangelo di San Marco ci presenta una delle giornate tipo di Gesù, quindi le sue attività principali durante la predicazione del Ministero pubblico, nei suoi tre anni, che come abbiamo visto si sostanziano fondamentalmente, anzitutto, nella predicazione della parola del Vangelo e poi nel Ministero di guarigione e di liberazione. Gesù annuncia la parola, guarisce i malati e scaccia i demoni. Queste tre attività esterne sono quelle che hanno caratterizzato questo tempo del Signore. Evidentemente, come notavo ieri sera, il Vangelo ci tiene a sottolineare che dietro e prima di tutto questo sforzo enorme di attività appunto apostolica esterna, anche nella vita del Signore c'era la ricerca e il primato della preghiera, perché se non si prega non si fa niente di efficace all'esterno e questo è cosa che ha vissuto anche il nostro Signore dandoci gli esempi. Ora amici, in questa seconda media volevo proprio approfondire alcuni aspetti della seconda lettura, cosa anche della prima, che riprendono appunto questo importantissimo aspetto, il Vangelo, l'annuncio del Vangelo. Il Vangelo deve essere al centro della vita cristiana, sapete che quando noi ascoltiamo o noi sacerdoti programmiamo il Vangelo ci sono delle particolarità liturgiche, le sappiamo, le facciamo tutti quanti, però ogni tanto è bene riflettere sui gesti perché possiamo farli meccanicamente. Quando si introduce il Vangelo o l'alleluia ci si alza tutti in piedi, le altre letture si ascoltano seduti, quindi si dà maggiore risalto, maggiore importanza, maggiore dignità. Il sacerdote saluta dicendo il Signore sia con voi e poi lui e l'assemblea quando dice dal Vangelo secondo gloria a te o Signore che significa? Ci fanno te segni di cose, no? Sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Che significa? Significa che al Vangelo innanzitutto ci penso, ci penso vuol dire che innanzitutto applico la mia intelligenza a conoscerlo. Poi il Vangelo lo proclama, anche se non sono sacerdote o vescovo, sapete che i sacerdoti e i vescovi lo proclamano con l'autorità apostolica, quindi a nome di Gesù Cristo Maestro Capo e Signore, però tutti quanti siamo chiamati a testimoniarlo. Francesco diceva prima con la vita e poi con la parola e poi lo porto nel cuore, cioè è la cosa per me più preziosa, è l'oggetto del mio amore più profondo. Sapete che c'è un gesto di devozione bello, ci sono i Vangeli Pocket, qualcuno lo fa e si compre il Vangelo Pocket e se lo mette dentro il taschino interno della giacca o della camicia all'altezza del cuore. Pare che sia questa qui, sembra ecco che fosse un'antica consuetudine anche dei nostri antenati cristiani, l'importanza, sapete che San Girolamo diceva che l'ignoranza delle scritture e del Vangelo in particolare è ignoranza di Cristo. San Paolo ha dedicato la vita, dice annunciare il Vangelo per me non è un vanto, ma è una necessità che si impone guai a me se non annuncio il Vangelo e con quale ricompensa? Niente, quello di annunciarlo dovutamente è di vedere le persone che si accostano al Signore Gesù. Il Vangelo viene trattato con così tanta riverenza nella liturgia perché deve essere la norma assoluta della nostra esistenza. Voi capite che la conoscenza del Vangelo e delle cose della fede è la cosa più importante, dicevo anche nell'Omelia ieri sera, la trascuratezza nella nostra formazione religiosa, che parte anzitutto evidentemente dalla Sagra Scrittura e dal Vangelo in particolare, è peccato ed è pure peccato grave e contro il primo comandamento. Capite? Cioè guardate che questa è la cosa più importante perché il Vangelo ci indica non la modalità migliore per vivere sulla terra, ma ci indica la strada per andare in cielo. Sulla terra, a cui molti siamo troppo attaccati, magari un pochino disordinati, quanto ci stiamo? A sermoneta quasi cent'anni la maggioranza delle persone, quindi con una media superiore, ma cento in confronto all'eternità. Ma che cos'è? Io, fratelli e sorelle carissimi, continuo purtroppo ad avere un grandissimo dolore, confesso il dolore di barroco, perché sono innumerevoli le volte che, sapete che c'è stato un record di funerali mai successi fino a otto anni di sermoneta, dai primi di gennaio a oggi. È veramente triste, proprio triste, nella grande maggioranza dei casi, dover celebrare l'esegui di una persona che, devi chiedere a qualcuno chi sia perché non ha avuto modo di poterla conoscere o che è morta senza un minimo conforto dei sacramenti. Vuoi capire che in sede di esegui è uno che deve pronunciare le parole di conforto, fa un'umeria evidentemente sulle scritture, ma questa è una cosa brutta, è una cosa grave, non deve succedere. Una vita lontana dal Signore, questo andazzo che ci sta in giro, che è diffuso in giro, capite? Quasi nessuno ci crede che esiste qualcosa dopo la morte, ma il Vangelo lo dice chiaramente, ma quei pochi che ci credono pensano che comunque si è vissuto bene, male, lontano, vicino, bestemmi, non bestemmi, vai ammessa, non vai ammessa, c'è l'amante o non c'è l'amante, fai adulterio o non fai adulterio, tanto alla fine, tutto sommato, guardate che questa cosa, a quanto io percepisco, è diffusa, ma questo non è così, nel Vangelo non c'è scritto questo, capite l'ignoranza del Vangelo? Nel Vangelo Gesù ha detto, cito testuali parole sue, non sono parole mie, sforzatevi di passare della porta stretta, perché larga è la porta e ampia la via spaziosa che conduce alla perdizione, quasi tutti sono quelli che ci passano, quanto è stretta la porta e quanto è angusta la via che porta alla vita e quanti pochi sono quelli che la trovano, è chiaro che il giudizio delle persone spetta sempre soltanto al Signore, una persona potrebbe essersi convertita in punto di morte, noi non sappiamo che cosa avviene, quindi questo va bene, ma questa è un'eccezione questo qui, capite? Cioè che una persona che è vissuta lontana all'ultimo istante possa avere un atto di contrizione, magari per le preghiere dei suoi familiari, può succedere, ma questo non deve farci niente in questo modo, perché una persona che vive lontana da Dio, volutamente, tira alla fine, se non c'è qualche miracolo, in paradiso non ci va, la salvezza non la raggiunge, rischia la dannazione, oggi a queste cose qui non ci pensa più nessuno, dove sta scritto che vanno tutti quanti in paradiso qualunque cosa hanno fatto, per favore, se qualcuno lo trova nel Vangelo, mi venga a trovare un ufficio e me lo faccia leggere, non ci ha scritto questo, vi ricordate l'episodio del ricco e burone del povero Lazzaro? Lazzaro stava in paradiso e il ricco e burone stava all'inferno tra i tre tormenti, nel giudizio universale, Gesù dice chiaramente, venite benedetti dal padre mio e via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, parla tantissime volte della genna, del fuoco che non muore, del verme che non si consuma, capite? Io sono preoccupato, è tanto tempo adesso questo qui, ma si vede proprio una situazione non soltanto di ignoranza religiosa, ma proprio di indifferenza. Io come pastore proprio, così lo chiama il parroco diritto canonico, io sono preoccupato, non poco, proprio della possibilità della salvezza di questi figlioli. Io ci prego tutti i giorni, faccio quel poco che posso, ma voi capite bene che non è che può andare a prendere le persone e portarle di peso, no? Questo andazzo diffuso, si, ma si prova, ma in chiesa non ci va, però c'ha la sua fede, c'ha il suo modo di pregare, comunque sta in contatto, prega, ma queste non sono cose che vanno bene, perché il nostro Signore ci ha incanalato su come la fede va vissuto, ci ha dato dieci comandamenti dal numero uno e al numero dieci. Al giovane ricco ha detto se vuoi entrare nella vita, dice che cosa devo fare per avere la vita eterna? Non gli ha detto vivi come ti pare, tanto qua alla fine andiamo venuti in paradiso, ha detto se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, di questi, questi, già li faccio, ma io voglio diventare perfetto. Ah, se vuoi diventare perfetto, venti tutto e vieni con me. Ma la perfezione è un'altra cosa. Però Santa Teresa Davila diceva che per andare in paradiso bisogna vivere in grazia, quindi a messa la domenica ci si va, la confessione si fa, la preghiera si fa, e si devono osservare i dieci comandamenti. E per chi è sposato e per chi è prete i doveri di Stato. Perché il nostro Signore quando siamo morti a me presenta le promesse del giorno dell'ordinazione e a voi mi presenta le promesse del matrimonio. E poi a voi ce l'ho mai da osservare. Esserti fedele sempre nella gioia, nel dorone, nella salute, nella mattia e amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Pegnativo, eh? Amarti e onorarti a tutti i giorni della mia vita. Ho mandato a quel paese mia moglie o mio marito, amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quella ho promesso tu. Io ho promesso altre cose, ho promesso tu. Non si fanno quelle cose di... Ecco, quindi capite? Io ricordo sempre, con gioia, diciamo così, anche con tanto amore, le esortazioni che Monsignor Penotti ci rivolgiamo tantissime volte da seminaristi o da giovani preti. Formazione, 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 dedicate alla predicazione, la predicazione, la predicazione, perché la gente oggi non è formata, non è formata. E la mancanza di formazione mette a ripentaglio la salute delle anime. Ecco sì. Ecco perché San Paolo ha speso la vita per il Vangelo. Guardate che se uno va a vedere i viaggi apostolici che ha fatto, rimane scombotto, cioè si è consumato nello sforzo apostolico. Ecco, quindi sia un momento questo per noi, perché possiamo, non istri, innanzitutto viverlo e poi dedicarlo come si deve. E però per tutti voi, che possiamo essere solleciti, attivi nel conoscerlo bene, non riadattare il Vangelo, questa è un'altra tentazione secondo la nostra testa. Cioè, il Vangelo c'è scritto questo, io però penso quest'altro. Non si può. San Francesco diceva ad litteram sine glossa. Tu prendi il Vangelo così come è stato scritto e non lo tocchi. Il Vangelo non si tocca, perché è parola del Signore. Nessuno di noi è più grande di nostro Signore che prende e cambia il Vangelo. Cioè, il Vangelo c'è scritto questo, io penso quest'altro. Non esiste una cosa di questo genere. Chiediamo al Signore che ci aiuti tutti ad essere fermamente rispettosi, grati della Sua parola, ma anche attenti nella conoscerla e nell'osservarla così come ci è stata consegnata. Siano notati Gesù e Maria. Siano notati Gesù e Maria.